Anche i cristiani, peraltro, nel loro atto di fede e il credo, non credono nell'immortalità dell'anima, ma credono nella resurrezione dei corpi. Il grande ideatore dell'anima è Agostino. Agostino recupera la concezione dualistica di Platone e come istituisce due città, la città terrena e la città celeste, così istituisce l'uomo composto di anima e di corpo. Naturalmente è molto più facile pensare che dopo la morte sopravviva l'anima di quanto non sia facile pensare che i corpi risorgano. E questa impostazione dualistica che Agostino, persona molto colta, che aveva studiato bene il neoplatonismo e anche Platone, desume dalla filosofia di Platone la nozione dualistica di anima e di corpo. Però fa un piccolo spostamento che diventerà radicale e decisivo nella storia dell'Occidente, ovvero questo dualismo e questa introduzione della parola anima in Agostino non è più richiesta da un'esigenza di conoscenza, ovvero dal bisogno di costruire un sapere universale e oggettivo, ma risponde invece all'esigenza della salvezza. Si sposta il problema dell'anima dalla conoscenza dove Platone l'aveva istituito, alla salvezza dove i cristiani trovano il senso del loro destino sulla terra. Da Agostino in poi si è persuasi, almeno in Occidente, di essere composti di anima e di corpo. Ma mi preme sottolineare che la dimensione dell'anima non nasce nella tradizione giudaico-cristiana, nasce nella tradizione greca. Del resto il cristianesimo è sempre stata una religione dei corpi, Dio si fa carne e subisce tutta la vicenda corporea che noi conosciamo dalla nascita alla morte. Tutta l'arte cristiana è tutta un'arte di corpi. delle religioni monoteiste, sia l'ebraismo sia il musulmanesimo non hanno nessuna rappresentazione dell'anima nei loro templi, sinagogue, moschee, ma solo versetti della Bibbia o del Corano. È solo la religione cristiana come religione dell'incarnazione a rivalutare i corpi e introduce questa figura dell'anima giusto per garantire la sopravvivenza. Questa dimensione dura dal 400 d.C. al 1500-1600 con la nascita della scienza moderna. La nascita della scienza moderna è contrassegnata da nomi come Cartesio, Bacone, Galileo, e Cartesio compie un'operazione fondamentale che consiste nel ridurre il corpo a organismo. Qui viene da fare qualche riflessione, che cos'è un corpo e che cos'è un organismo? Un corpo, chiamiamo corpo il nostro essere al mondo, sollecitati dalle cose del mondo, che rispondono alle cose del mondo, chiamiamo organismo e invece quella sommatoria di organi di cui si occupa sostanzialmente la medicina. Sono due concetti radicalmente diversi. La lingua tedesca usa persino due parole diverse. Il corpo impegnato in un mondo lo nomina Leib, mentre il corpo ridotto a organismo, come è visualizzato dalla scienza medica, lo nomina Körper, o addirittura Körperding, il corpo ridotto a cosa. Giusto per farci capire, se io vado da un medico per una visita oculistica, i miei occhi sono dei veicoli di comunicazione e così pure lo sguardo del medico è un altro veicolo di comunicazione. Questo è Leib, questo è corpo vivente, impegnato in un mondo, in relazione ad altri. Poi non appena il medico ispeziona il mio occhio, il mio occhio non è più un veicolo di comunicazione, non è più un sguardo, diventa un oggetto osservato. Allora in questo momento il mio occhio diventa Körper, diventa organismo, diventa cosa. Ecco, questa trasposizione è una trasposizione decisiva per la nascita della psicologia. E spiegheremo anche il modo e il perché. Interessante a questo punto riuscire a capire questa visione duplice del corpo, quello impegnato nel mondo che è corpo vivente e quello invece ridotto a cosa, ispezionabile dalla scienza medica, che è propriamente l'organismo. E che cos'è il corpo, dice Cartesio? Come si fa ad avere una nozione con idee chiare e distinte del corpo? E che significa chiare e distinte? Per Cartesio erano chiare e distinte le idee della fisica. Perché la fisica si esprime per quantità, misura, numero. E allora noi dobbiamo leggere il nostro corpo non in base alle nostre sensazioni, ai nostri vissuti, ma in base all'anatomia, alla circolazione dei liquidi, alla trasmissione del sistema nervoso, cioè a un corpo ridotto a cosa. Quando la principessa Palatina di Svezia dice a Cartesio ma guarda che io ho una sensazione del mio corpo anche a prescindere dalle idee chiare e distinte, tra parentesi, a partire dalle leggi della fisica, Cartesio gli risponde, vedo che nonostante il suo rango, lei pensa come il popolo. Il popolo pensa infatti che il nostro corpo coincida con la nostra soggettività, pensa che noi siamo sostanzialmente corpo. Io non dico ho un corpo stanco, dico sono stanco, perfetta coincidenza del mio io con il mio corpo. Il mio corpo è impegnato da un mondo, si modifica secondo degli ambienti che frequenta, è sollecitato dal mondo, risponde agli stimoli del mondo, ha un mondo, questo è il corpo vivente. Quando dovesse capitare a qualcuno di andare in un ospedale, lui va non tanto come soggetto, non tanto come biografia, va come un semplice rappresentante d'organo collocato in reparti che sono definiti dalla patologia degli organi. E quando i malati si lamentano della scarsa umanità dei medici, chiedono ai medici di occuparsi dei loro vissuti, della loro biografia, ma è una domanda impropria, vuole essere logici, perché il medico deve occuparsi sostanzialmente del corpo ridotto a cosa, ovvero del semplice organismo, a prescindere dai vissuti, dai dolori, dalle configurazioni patologiche. Ma chiunque di noi vada a fare una visita medica, cosa dice al medico, fa una narrazione dei suoi sintomi, dei suoi dolori, il medico l'ascolta, ma nell'ascoltare il medico che cosa fa? Compie un'opera di traduzione, traduce il dolore che è un fatto soggettivo, nella ricerca di un male che è un fatto oggettivo, organico, ispezionabile scientificamente. Se riusciamo a capire queste cose, allora abbiamo capito che il corpo è giocato su un duplice registro. La scienza fa benissimo a ridurre il corpo a organismo, facciamo malissimo noi a ritenere che il nostro corpo sia l'organismo, perché una volta che abbiamo ridotto il nostro corpo a organismo, tutto quello che non si spiega su base organica dovrà essere assegnato ad un altro sapere, e questo altro sapere si chiama psicologia. Nel 1600-1700 nasce la prima scienza psicologica che è la psichiatria. La psichiatria di per sé non è una scienza, perché iatria vuol dire cura, cura della psiche. Dell'anima si era detto tutto che era mortale, immortale, che sopravviveva l'uomo, che non sopravviveva. Nel 1700 si comincia a dire che l'anima poteva anche ammalarsi. Solo che dove la mettiamo questo sapere dell'anima che non si lascia sottoporre a idee chiare e distinte, ovvero alle leggi della fisica. E allora la prima formulazione della scienza psichiatrica porta a questa etichetta molto e molto indicativa. Si collocano in un ambito che viene denominato morbus sine materia, malattia senza riscontro organico. Se per esempio si assiste ad un catatonico che sta 24 ore sulla punta di un piede senza nessuna giustificazione dal punto di vista organico che è ispezionato, ha la stessa muscolatura di una persona sana e riesce a compiere un'operazione effettivamente non rubricabile nel mondo della vita, costui è malato, ma non avendo riscontro organico non può essere ispezionato dai medici i quali non hanno nessuna categoria fisica e chimica per giustificare questo atteggiamento. E allora viene collocato nella scienza denominata malattia senza riscontro organico, morbus sine materia. Questa scienza verrà successivamente denominata psichiatria, che è la prima scienza psicologica che nasce rispetto alla psicologia propriamente detta e rispetto alla psicoanalisi. Perché nasce prima la psichiatria? Perché i pazzi creano un fastidio sociale, perché disturbano, perché sono pericolosi, perché creano diffidenza, perché non si sa come comunicare con loro, ma soprattutto perché rappresentano rischi sociali, per cui vengono messi nei carceri insieme ai delinquenti. Fu uno psichiatra francese, Pinel, uno spagnolo, Esquirol, e un italiano di nome Chiarugi, i quali ritengono che sia opportuno separare i pazzi dai delinquenti. In base a quale principio? In base a principio che i pazzi possono si fare alle stesse azioni dei delinquenti, ma proprio perché sono pazzi, non lo possono fare come insegna la religione a proposito del peccato, con piena avvertenza e deliberato consenso. I pazzi non sono particolarmente consapevoli delle loro azioni e le loro azioni non sono il prodotto di una volontà che ha deciso di compierli. E allora noi vediamo che queste due categorie religiose intervengono nella scienza psichiatrica e vengono utilizzate per separare delinquenti e pazzi. Una separazione più formale che radicale perché è dove vengono collocati i pazzi in altre tante prigioni che si chiamano manicomi. Però già questa distinzione rappresenta un significativo progresso. La scienza psichiatrica nasce nel 700 e nell'800 nasce la scienza psicologica. Diciamo che la scienza psichiatrica nasce in maniera difensiva, il suo scopo non è tanto di conoscere la malattia, non si avevano gli strumenti, nasce semplicemente come reclusione dei folli in maniera tale che non creassero dei disturbi sociali. Quindi è una scienza difensiva, non una scienza che conosce, una scienza che cautela la società da eventuali fenomeni spiacevoli che possono accadere ad opera dei folli. Nell'800 nasce la psicologia propriamente detta. La psicologia prima era una parte della filosofia. Le scienze psicologiche erano incluse nell'ambito della filosofia dall'epoca di Platone, Aristotele fino ad arrivare all'epoca di Kant che nell'antropologia pragmatica costruisce delle tipologie patologiche che costituiranno la base per la costruzione di tutti i manuali di psichiatria dell'Ottocento. La psicologia si trova in una difficoltà non indifferente e tuttora non risolta. Perché? Per essere scientifica deve trattare l'uomo come un oggetto e guardarlo come si guardano tutte le cose di laboratorio. Ma una volta che l'uomo viene oggettivato e guardato come una cosa da laboratorio abbiamo ancora a che fare con l'uomo oppure no? Naturalmente tutti quanti noi possiamo fare l'esperienza come la spontaneità della nostra vita e i nostri comportamenti vengono per esempio modificati sotto osservazione. Se uno ci guarda non siamo più liberi nei nostri comportamenti alla stessa maniera di come lo siamo quando uno non ci guarda. Se poi questo sguardo è lo sguardo della scienza è chiaro che considerato da un punto di vista oggettivo con gli strumenti dell'osservazione scientifica l'uomo non dà le stesse risposte che darebbe libero nel mondo della vita. E allora la psicologia per salvarsi da questa contraddizione che cosa ha fatto? Ha fatto due operazioni. Primo, occupiamoci solo delle facoltà umane. Si intendono per facoltà l'intelligenza, la memoria, la motivazione, l'apprendimento, l'emozione e si costruiscono degli studi intorno a queste figure. Dopodiché la psicologia non sa dire nulla della mia memoria, delle mie emozioni perché la sua lettura è semplicemente una lettura delle facoltà e non delle modalità con cui queste facoltà si esprimono in ciascun individuo. Del resto lo stesso Aristotele aveva già avvertito che dell'individuale non si dà sapere perché il sapere o riguarda la generalità dei soggetti o non è un sapere. Una legge scientifica vale per tutti i casi che essa rappresenta e non per il singolo caso. Per cui la psicologia si trova di fronte a una seconda difficoltà. Lei può parlare di che cos'è l'intelligenza ma non sa nulla della modalità con cui la mia intelligenza si esprime. Può parlare dell'emozione ma non sa nulla della modalità con cui io mi emoziono. E allora sotto questo profilo la psicologia è come ben diceva Husserl nel Novecento afflitta da un grosso enigma. O diventa scientifica ma in questo caso non possiede più la conoscenza degli individui oppure promuove una conoscenza degli individui ma proprio perché la conoscenza degli individui è diversa da individuo a individuo non può esprimere nessuna legge universale e come tale non può essere scientifica.